Will Smith alla notte degli Oscar, un gesto intollerabile, una violenza intollerabile, si è detto, discussione, dibattiti, to show, io stasera invece sono fuori dal coro, vi voglio parlare di violenze quotidiane di cui non parla nessuno, a Milano sette stupri in tre giorni, sette stupri in tre giorni e non ne parla nessuno, a Roma è successo un fatto, uno stupro, ve lo racconteremo stasera, incredibile, e non ne parla nessuno, non è che siccome c'è la guerra, la violenza grande può passare sotto silenzio la violenza sotto casa, le nostre città devastate, l'insicurezza di chi esce di casa, non è che siccome c'è la guerra passa sotto silenzio il fatto che abbiamo un ministro dell'interno che non fa una beata mazza, una beata mazza, perché era venuta a Milano a garantire sicurezza, e dopo sette stupri in tre giorni, è una situazione devastata.